E l'immortalità per mezzo del Vangelo, noi confidiamo in te, Signore Gesù, non ci sarà che morto. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non che alcuno abbia visto il Padre. Ecco perché anticamente si voleva essere sepolti dentro o almeno accanto alla propria chiesa. C'è una comunione salda con tutti loro. È vero, non è una comunione visibile, ma non per questo è meno reale. Il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane...